Ciao, benvenuti o bentornati nella mia stanza, io sono Sara per chi non mi conoscesse e oggi vorrei provare a fare una challenge che ho visto da Basic Gaia e anche da Niki Tutorials se non sbaglio che è la One Deep Challenge ovvero praticamente consiste nel pucciare solo la volta il pennello la spugnetta nel prodotto e usare esclusivamente quello che si trova sul pennello senza appucciare un'altra volta quindi non penso che sia particolarmente complicato per me perché non so non uso così tanti prodotti ma nel caso lo scopriremo più avanti quindi cominciamo subito comincerò subito dal primer ho scelto questo di Fenty Beauty perché ha la squisciare da un tubetto il prodotto e effettivamente sarà una sola pompetta ok penso basti avanzi oddio lo spero lo mettiamo qua ok dopo il primer metterò questo fondotino anche questo con la pompetta così che anche se comunque io ne metto una pompetta vado comunque con il pennello prendo solo una volta bene anche se immagino l'aveva preso praticamente tutto e poi lo vado ad applicare cominciamo a metterlo un po' dappertutto perché se no qua non basta proprio per niente comunque abbiamo una parentesi i miei capelli che sono momentaneamente biondi slash verdi slash azzurrini praticamente io ho fatto la tinta viola l'ultima volta dopo la decolorazione non è uscita esattamente come voleva anche se non era male più che altro perché qua in quasi tutte le lunghezze io avevo l'enne quindi non riusciva a tenere il colore quindi ho fatto un bleach wash o bleach bath se non sbaglio così che si riuscisse a togliere il colore viola e riprovare con un altro colore che ho comprato perché quello che ho fatto l'altra volta era terribile era totalmente inutile ed era terribile perché questo che ho fatto l'ultima volta almeno nella radice il colore era abbastanza bello era comunque viola mentre l'altra volta ha virato subito al blu quindi nope ok ora passo al correttore questo di essence anche il fondo tinta radice essence il fresh and fit numero 10 mentre questo è il correttore stay all day 16 hours sto morendo e lo tirerò fuori così come lo tirerò fuori lo metterò sul mio riso ok lo distribuiamo un po' su entrambi i lati un po' sul mento un po' sul naso qua qua ok fatto adesso io con in realtà volevo farlo col pennello ma ok qua bene la cosa di questo correttore è che si asciuga dannatamente in fretta qua vado con il dito perché sinceramente lo preferisco al pennello e alla spugnetta non so perché con la spugnetta trovo che si asciughi ancora più in fretta fa macchia quindi di solito lo faccio con le dita ok ora passo alla cipria questa è la Too Faced Born This Way in colore translucent allora io la metterò sulla mano perché il tappo è troppo piccolo ok ok ne ho messo questo tanto adesso con questo puff non mi ricordo come si chiamano farò così solo una volta ok e lo metterò piano in modo che tipo non cada ok ok ce l'ho fatta sono riuscita a mettere la cipria praticamente dappertutto passiamo alle sopracciglia per le sopracciglia userò due palette la Naked e una della mi ricordo della NYX sperando perché io non ho pomade ho solo la matita con la matita ovviamente non è possibile quindi scelterò uno di questi colori penso o questo o questo non ne sono sicura adesso vedremo e poi andrò con la non mi ricordo come si chiama Gimme Brow di Benefit e vediamo come fa come va non come fa allora altrimenti l'opzione di qua è questo colore questo sono un po' indecisa perché ho un colore di sopracciglia che tende al rosso momentaneamente ma i miei capelli non sono rossi quindi penso che andrò con la NYX allora con un pennello angolato andrò a grattare praticamente anche se non si attaccherà anche su questa cosa ok fatto io adesso la chiudo perché non potrò più bucciare e la metterò un po' da una parte e un po' dall'altra così da riuscire a bilanciare il colore almeno provarci perché però io non ci vedo quindi userò questa palette ottimo il colore sul pennello è già finito che gioia quindi adesso andrò con il Gimme Brow un'unica pucciata speriamo non penso che si stemi la situazione perché le miei si da perciglia sono terribili di base ma fatto le mie sopracciglia continuano a essere terribili ma purtroppo ho questo ora metterò un po' di correttore sotto l'arcata sopraccigliare stavolta non pucciano direttamente da qua ma con il pennello prenderò quello che riesco e andiamo ora passiamo al primer che è questo sempre di Fenty Beauty un'unica un'unica cacciata ma di questo basta e avanza passiamo adesso al trucco occhi e per questo trucco ho deciso di usare queste due palette la Poison Garden di Nabla e questa da Forever Flawless di Revolution non so in realtà cosa farò questa è così lei mi immagino la conoscerete già sono abbastanza simili volevo fare qualcosa sul viola ma non qualcosa di scontato quindi adesso vediamo allora cominciamo con un transition color e prendo questo vediamo devi bastarmi per entrambi gli occhi hai capito colore un po' qua un po' qua allora come transition color è abbastanza ok ok ce la possiamo fare poi allora volevo mettere questo colore nell'angolo interno questi due no adesso vediamo e poi non lo so vediamo vediamo allora metterò sicuramente questo questo nell'angolo esterno e questo nell'angolo interno e poi nella palpebra metterò questo che è bianco con in realtà non è bianco perché non si vede bianco è solo praticamente glitter violetti e quindi andiamo allora per l'angolo esterno prendo un pennello ok andiamo lo bucciamo per bene questa paletta fa un po' di fallout certo che poi ok ci metto così tanto però così è troppo ok perché niente lo sto scavando ok allora qua e un po' e un po' ok con il dito ad appucciare sul bianco un'unica volta fatto e lo metto qua un po' un po' qua adesso lo distribuiamo un po' meglio ok ok ce la si può fare questo trucco non c'entra assolutamente quel colore della mia maglietta ma a noi interessa no ottimo ok adesso però prendo un attimo questo colore è intensifico l'angolo esterno ok ci sta ci sta se magari non rimanevo così con la palette era anche meglio adesso prendo un mix probabilmente tra questo e questo forse non ci metto anche le dita è bello proviamo prima con questo anzi no li mischio direttamente allora con un pennello andiamo a facciare proprio di questo ok e lo metto qua colore ci sei? no? va bene allora per la rima inferiore metterò questo colore che è un nero molto shimmer glitterato nella rima inferiore un'unica appucciata mettiamo tutti delle parti ok ora guardo qua piano piano calma non facciamoci prendere dall'ansia oh bene questo colore è già schiarico voi non vedrete perché io molto intelligentemente metto la palette davanti ok però dai ce l'abbiamo fatta mettere un po' di nero su un'altra migli occhi più o meno ora come eyeliner userò un eyeliner in pot perché io non ho quelli che non inchiostro a calamaio quindi andiamo con una bella appucciata consistente perché se no quando mai io la faccio le faccio due righe di eyeliner ok ora vediamo uno specchio vediamo se riesco a farle vado a mettere prima un po' da un lato e un po' dall'altro allora ovviamente non sono simili neanche se le pago ma va bene va bene ci sto ce lo facciamo andare bene ok adesso provo a lavorarlo fin tanto che non è completamente asciutto ok matita non ne metto perché come faccio a dosare una matita quindi nada metto il mascara questo è della pupa è il vamp un'unica appucciata per entrambi gli occhi vediamo un po' prendiamo bene allora facciamo una da questo una da questo ok madonna io ho le lenti ma lo specchio è tipo ha un braccio di distanza io comunque non c'è non ci vedo ho bisogno di uno specchio più vicino che bello le gioie della miopia ok ho messo tutto quello che era possibile mettere da questo scovolino sono tutta rattrapita sembra un goblin ma io mi ritengo sinceramente soddisfatta di di questo mascara non è male non è male ora passiamo a contouring blush è illuminante allora il contouring lo prendo da questa palette pennello scusate ma a me più del naso ci deve essere della polvere da qualche parte una pucciata questa roba fa polvere come poche cose andiamo anche qua a distribuire non penso mi basti ma noi crediamo nella forza nel potere di sfumare bene bene non si vedrà niente stupido pennello sfumare allora nello specchio si vede in videocamera non lo so ho i miei dubbi ma noi ci ritengo soddisfatte anche perché si è riuscito a metterne un ciccinino anche sul naso bene ora illuminante metterò metterò quello che ho usato anche come ombretto ovvero questo bianco una bella pucciata consistente qua volano gli ombretti ok forse è troppo viola ma a noi frega qualcosa no quindi a posto vogliamo un illuminante viola verde blu non è importante importante è che ci piaccia a posto mi blush ho scelto questo di neve che è il Swine in London come prima ne metto un po' sulla mano ho preso questo perché è tipo super pigmentato ecco sta già partendo male pennello questo è il tanto che ho messo non so se riuscite a vederlo ok io di questo blush ho il terrore perché adesso lo poggio e mi lascia non lo so la roba sulla faccia mi chiede poco 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 oh boy è già troppo sfumiamo con l'altro lato del pennello come vi ho detto adesso adesso non so se si vede mettiamo un po' sul naso ok prendo un altro pennello per sfumarlo un po' perché è leggermente pigmentato ok così va già meglio ma tanto a noi piace questo affetto non lo so ho visto la mia crush e mi ha salutato tipo giusto? giusto ok ok ora mancano solo le labbra e allora io penso che andrò con questo è una tinta labbra di sephora perché con questo trucco non so robe nelle ciglia che gioia un'unica appucciata ho il terrore vediamo ok ok ce l'ho fatta attenzione non è venuto neanche malissimo ho tipo caricato tantissimo su questo povero pennellino qua dentro però ha fatto il suo lavoro allora a me non dispiace come come trucco è praticamente quello che faccio sempre solo che tipo lo ripasso 8000 volte io il pennello nelle nelle cialde per quanto mi riguarda il trucco a me sembra abbastanza buono non non ha particolari mancamenti diciamo mancanze non mancamenti la base non è male forse ho esagerato un po' con l'illuminante ma tanto non ci interessa per il resto ottimo se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere con un commento un mi piace una condivisione quello che volete altrimenti non fa niente non è importante noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao